Pare siano gravi le condizioni di un giovane ciclista che è rimasto coinvolto in mattinata in un incidente avvenuto dinnanzi la rotatoria di San Michele. L'impatto è stato frontale, il giovane in sella e la sua bicicletta si è scontrato con una lancia Ypsilon guidato da una donna che saliva nel senso sposto della carreggiata. Il ciclista, munito di casco protettivo, è caduto sull'asfalto ed ha subito, secondo i riscontri dei medici del 118 arrivati sul posto, un trauma cranico con conseguente emorragia, le sue condizioni sono gravi.